1. Da quando vivi in Italia? 2. Fino a quando starai in Italia? 3. Con chi stai? 4. Di chi è questo? 5. Contro chi combatti? 6. Fino a che ora dormi? 7. Perché fuoi questo? 8. Da che età si può entrare? 9. Di cosa stanno parlando? 9. Di cosa stai?